... chi? colombaretto è calato per frutificato ormai ma noi si chiede a me, io mi diverticchiamo che dei buchi qui noi siamo forti, fa scuola io mi diverticchiamo che della matura di questa chi cazzo via di nuovo, di nuovo che cazzo Palu in Verona si è piada no? in particolare non si è piada dell'abbone e di Gennaro io non c'è la c'è la riserva vai, grazie non più è venuto di Gennaro Pasqua no? no no ci sono